Con il pavimento in ceramica del ConcaFast la nostra casa è diventata bellissima e noi siamo più felici l'abbiamo scelto insieme, traendo conto delle diverse esigenze per me doveva essere bello, resistente e facile da pulire io invece volevo risparmiare tempo, fatica e soprattutto soldi è così che abbiamo scoperto del ConcaFast, il primo pavimento in ceramica composa in opera senza fuga, colla e stucco è bello vedere la casa che sotto i tuoi occhi cambia aspetto e tutto senza lo stress di doverla svuotare, perché abbiamo spostato i mobili di volta in volta tanto con del ConcaFast il pavimento è subito calpestabile e se per una ragione qualunque decidessimo di toglierlo, possiamo sempre rimuovere e recuperare il prodotto per montarlo da un'altra parte all'inizio lui si è limitato a guardare il posatore, poi quando ha capito come fare si è rimboccato le maniche e si è messo al lavoro è stato bravissimo con del ConcaFast la posa in opera è economica, pulita e veloce se volete conoscere meglio le caratteristiche del prodotto, visitate il sito delconcafast.com trovate del ConcaFast solo dai rivenditori autorizzati del ConcaFast meno male che l'hanno inventato